Dormire troppo poco può avere effetti negativi sulla tua salute, sul tuo umore e anche sul tuo peso. Ma milioni di persone in tutto il mondo non riescono ad addormentarsi, si svegliano più volte durante la notte o si svegliano troppo presto. Se dormi meno delle 7-8 ore consigliate per notte, continua a seguirci per un'innovazione tecnologica che cambierà il modo in cui dormono le persone in tutto il mondo. Ti presentiamo G2, la maschera per la sera massaggiante progettata per aiutarti ad addormentarti in fretta e godere appieno di una notte di riposo. Grazie ai suoi 18 elementi pulsanti massaggianti, G2 rilassa i muscoli intorno agli occhi, rilassa la mente per permetterti di riposare. Ti basta indossare la maschera per 5 minuti prima di dormire, sraiarti in una posizione comoda e accendere l'apparecchio per un'esperienza di assoluto riposo. Mentre G2 allontana lo stress, anche i tuoi occhi trarranno un incredibile beneficio. Infatti, i 18 elementi massaggianti sono progettati per stimolare la circolazione del sangue. È stato dimostrato che G2 riduce drasticamente sia il gonfiore degli occhi che quelle antiestetiche occhialie. G2 ti assicura un leggero massaggio intorno agli occhi. Ti sentirai così bene e riposato come dopo una seduta in un centro benessere. G2 ha eliminato le mie borse. Riesci a crederci. Non potrei ottenere lo stesso risultato neanche con un costoso intervento chirurgico, ma con G2 è stato facile. La sensazione pulsante che ti regala G2 ti fa sentire così bene. Puoi usarlo a fine giornata per rilassarti, ma è fantastico anche per iniziare la giornata. Vuoi provare tutti gli incredibili benefici che una buona notte di riposo può regalarti? Ringiovanire il tuo viso per un aspetto più tonico e radioso? Allora resta con noi. Oggi ti mostreremo alcune persone che avevano difficoltà a dormire e che ora invece riescono a riposare e a rilassarsi. E altre che si svegliano senza quel viso gonfio la mattina. Oggi per un periodo di tempo limitato puoi portare G2 a casa tua. Ciao, sono Forbes Riley e questa è G2, la maschera per la sera che unisce i principi dell'agopuntura e del massaggio per aiutarti a eliminare lo stress. Ti addormenterai in fretta, dormirai profondamente e ti sveglierai rigenerato. Basta indossarla per 5 minuti la sera e rilassarsi. I 18 elementi massaggianti stimolano i tuoi punti di agopressione. Inclusi Qui Ming per il defaticamento oculare, Gui Hao per la secchezza e l'infiammazione oculare, Zanzu e Yuyao per i mal di testa causati dallo stress. G2 è così efficace perché si concentra su quei punti sovraccaricati dallo stress. È dimostrato che riduca la comparsa di rughe aiutandoti a eliminare occhi gonfi e borse dopo solamente pochi giorni. È molto semplice, basta scegliere una delle 11 modalità di massaggio e immediatamente G2 migliorerà la circolazione del sangue. Ti aiuterà a avere un riposo migliore. È perfetto dopo una giornata trascorsa davanti a un computer e al cellulare. Non dovrai più assumere sorniferi per dormire, perché hanno effetti collaterali, e niente più trattamenti cosmetici costosi che possono danneggiarti in modo permanente. Chiama ora e riceverai la doppia azione di G2, il nero o il rosa, da usare nella tranquillità e nella privacy di casa tua all'incredibile prezzo che vedi in sovraimpressione. Non perdere questa fantastica occasione. Scopri l'antico segreto del riposo. Apparirai meglio, ti sentirai meglio, migliorando la qualità della tua vita. Ordina adesso!